questo non è amore la polizia di stato è sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere e la questura di pescara organizzerà per il prossimo 25 novembre giornata mondiale dedicata proprio alla eliminazione della violenza contro le donne una iniziativa all'istituto de cecco il questore carlo sulimene invita ancora una volta chi è vittima di violenza fisica e psicologica a denunciare un ruolo importante afferma di chi è vicino alla persona che deve trovare il coraggio per uscire fuori dal tunnel la polizia di stato prosegue sulimene e pronta anche soprattutto all'ascolto ma ora oltre alla violenza per così dire offline c'è anche la violenza in rete ancora più subito se vogliamo prosegue il questore tutto quello che riguarda il mondo del revenge porn tutto quello che rimanda riguarda il mondo estorsivo tutto quello che riguarda la fine di un rapporto sentimentale che poi possa sfociare in un tentativo di estorsione o un'estorsione realizzata per cui magari c'è la divulgazione di filmati di fotografie questo ovviamente può far cadere nello sconforto interi nuclei familiari e la persona che subisce questo tipo di affronto anche qui siamo diciamo in prima linea la polizia postale delle comunicazioni ormai ha più di 20 anni di esperienza anche in questo settore e anche in abruzzo è molto ben rappresentata con un compartimento regionale per cui si tratta di operatori specializzati della polizia di stato che sono ovviamente pronti a venire in soccorso ai singoli cittadini ecco sulla violenza online io sarei particolarmente attento perché riguarda tutte le fasce deboli per cui può essere la violenza ci possono essere i casi di bullismo ci possono essere i casi di cyberbullismo ci possono essere i casi di revenge porn ci possono essere i casi di truffe sentimentali che poi possono portare un forte scoramento da parte di soggetti che invece non sono attrezzati a resistere a queste tensioni un appello un appello del questore a denunciare affinché si possa trovare il coraggio di denunciare è chiaro che denunciare per noi è come devo dire metterci al corrente di quello che accade su diversi fenomeni per cui denunciare bene ma anche parlare sentirsi venire da noi anche per avere un consiglio abbiamo la possibilità di esprimere professionalità e sensibilità in modo da rendere ancora più partecipi e più sicuri i nostri cittadini il questore precisa che anche a pescara c'è una rete importante tra forze dell'ordine istituzioni centri antiviolenza e l'intervista integrale sarà trasmessa nella trasmissione i fatti e le opinioni che si occuperà proprio di violenza di genere e che andrà in onda su rete 8 venerdì prossimo alle 22 30 ospiti e testimonianze nella trasmissione curata e condotta dal nostro direttore carmine perantuono non è mai troppo tardi per chiedere aiuto